Bella a tutti ragazzi, qui Rain e benvenuti a questo nuovo video Oggi non sarà un gameplay di nessun tipo di gioco, ma sarà un tutorial Che vi spiegherà come creare un server in Minecraft Allora, questo è un utente, TheBestSniper220 mi pare Che è un amico del grande Boris, credo E mi ha chiesto se potevo fare un tutorial e spiegare come si creava appunto un server E quindi ho deciso di farlo, insomma Poi successivamente farò anche un tutorial di come mettere le classi colorate su MV3 Che pure quello è una stronzata, quindi farò pure quello Vabbè, insomma, ora parliamo di questo Allora, innanzitutto andate sul sito ufficiale di Minecraft Minecraft, eccolo qui E andate su Scarica Cioè, logicamente vi dovete registrare Io ho il mio account Fate Scarica Se però non mi pare Cioè, non mi appare sta cosa Ecco Fate andate su Scarica O Download Perché a me si traduce automaticamente la pagina E mettete questo Minecraft per Windows E fate Scarica Eccolo qui No, non mi ricordo No, 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 scusate E' questo qui Minecraft server.exe Lo prendete e lo scaricate Allora Ehm... La cosa che vi darà E' questa Che mo' la apro No... E' questa qua Eccola Minecraft server Vi uscirà sta cosa Poi successivamente Però non... Dovete scaricare un altro programma Che si chiama Log Main Hamashi Che lo prenderete Che lo prendete da questo sito qui Che è da Softonic Che ve lo metterò in descrizione Eccolo E fate download Vabbè ve lo scaricate Sul desktop E' normale E ve lo mette qua Allora Io lo sposto qui dentro Per comodità Allora Innanzitutto Aprite Hamashi Che sarà Offline No? Cioè A voi vi dirà tipo Crea una rete O partecipa a una rete esistente Però voi lo lasciate un attimo aperte Poi cliccate Minecraft server Fate Esegui E attendete Che vi aprirà questa pagina E vi spawnerà Cioè Vi creerà La L'area di spawn Quindi Voi aspettate Farà il processo Ecco Ha già fatto Quindi ora Non mi ricordo Qua mo' non si chiude subito infatti Quindi aspettiamo un attimo Non si chiude Sto ancora Preparando Lo spawn Dai Su Ecco qua E vi usciranno queste cartelle qui Allora Queste Voi dovete Occuparvi solamente di questa cartella qui Server Che fate Tasto destro Apricon Blocco note E Vi uscirà Questa 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 serie di Vabbè Vabbè So parole Che So tipo comandi Per Il server che andrete a creare Per esempio Potete decidere Se ci sono mostri o no Se mettere Game mod Se fare il pvp La difficoltà E Non so Il numero di mostri E tutta sta cosa Quindi Innanzitutto Voi andrete a cambiare La cosa di Online mod Da true Metterete false Se volete fare Tipo Un Cioè io metto sempre false Praticamente Però non me lo ricordo bene Perché Però ho provato che con true Non mi funzionava Per quello che volevo fare Vabbè comunque mettete false Che credo sia la miglior cosa Poi andate su Server IP E Cioè E abbassate Allora Ora andate su Questo qui Su Amachi Fate Rete Crea nuova rete A voi ve lo darà sotto Se avete appena installato Amachi No Aspetta prima devo andare online Aspettiamo che si accende Scusate per il Trascio di parole O perché Mi ceppo Cioè mi sto appena svegliato Vi giuro Sto Fuso Allora Andate su Rete Crea nuova rete Ok Qua su crea nuova rete Voi andate su Id rete E vi mettete un nome a caso Cioè Per esempio io faccio Asdfghglkl Cioè Nome più Cagoso Però dovete stare attenti Perché Cioè Quasi tutti i nomi Quelli facili Sono stati usati Mettete il nome Abbastanza facile Però vi ricordate Perché se no Sono casi So uccelli senza zucchero Allora Voi mettete Password E mettete Non so Mine Craft 1 2 3 Ok E fate Crea Ecco Lo sapevo Vedete Il nome rete Specifico I nomi più stupidi Già sono stati usati Io faccio tipo Un Bau 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 È stato usato A Ecco Lo sapevo Bau Bau È stato usato Metto un Succhiamelo Bella Un po' da Gola K Da trussetto Ecco E non è stato usato Ok Quindi Avete ora Il vostro Server amaci Cliccate Tasto destro Su qua Su Sto numero Qua E fate Copia Indirizzo Questo Andrete su Il server Fate qui Tasto destro Incolla Ok Poi fate File Salva E quindi Questo È salvato Poi fate Chiudi Riaprite Minecraft Fate Segui E Questa volta Perché sta Rispaunando la Terra Non lo so Però Lo lasciate Fa Ok Spano la Terra Ora Siete pronti Per andare Su Minecraft Apriete Minecraft Vabbè Qua fate Enter Multiplayer Fate Add server Che ne so Vabbè Questo qua È il Su Chiamelo Bella Poi Server Dovete copiare Il nome Il numero Questo qui Allora Quindi È 5.203 .246 .5 Ecco qua Fate Done Ecco Pure Il vostro Server È aperto Praticamente Se volete Giocare Con i vostri Amici Fate Dovete Lasciare Tutto Aperto Sia Maci Che Questo Qui E poi Fate Che ne so Rete E al vostro Amico Deve fare Partecipa Rete Sistente Gli date Il nome Questo E il codice La password E vi apparirà Sotto Come questi Qui Questi Server Miei E Insomma Vabbè Sarà Così Insomma Il server Fate Join Login E Siete Spawnati Qua Mummelaga Perché sta Creando il mondo Vabbè Comunque Questo È Il Il Server Vabbè Ora vi spiego Un attimo Come Mettere Delle mappe Su Appunto I server Ok Allora Innanzitutto Chiudiamo Qua E qua Allora Chiudiamo Qui E poi Mettiamo Questo Offline Praticamente Voi andate Se volete Se volete giocare Su una mappa Non so Parkour Insieme ai vostri amici O Cazzetti vari Tipo Un'altra mappa Dovete Dovete Scaricare il contenuto Della mappa E come se fosse Tipo Che voi Potete giocarla In single player Praticamente Che ne so Tipo Ecco Questa è la mappa Arctic Abyss Arctic Abyss L'apriamo Questa Vabbè Insomma Questa Ecco E questa qui È praticamente Il salvataggio Della mappa Quella che voi mettete Nei saves In single player Stavolta Voi prendete così La prendete E Vabbè Ma io la estrago Ok Andate su World World Senti che in inglese C'è proprio Madre lingua La volete qua Prendete questo Tasto destro Copia E la incollate Qui dentro Ecco qua Ora voi andrete indietro Fate Minecraft Server Ecco Ora è pronto Riaccendete Amachi Ok Aspettate che Si accenda Dai Sveglia Questo dorme più di me Ottimo Il succhiamelo bella È acceso Rientriamo Multiplayer Ora vedete che Il server È di nuovo aperto Join server E sarete su Articabis Che dite Una stronzata Praticamente Quindi Allora Ricordatevi Che Di Fa tutti i passaggi Come L'ho descritto io Altrimenti Mi attaccate Alla Beata ceppa E Spero quindi Che questo tutorial Vi è stato utile E Boh Quindi Se vi va Mettete un bel mi piace E Magari Iscrivetevi Al mio canale O magari Visitatelo Fate come vi pare Qui era Rain E Bella a tutti Grazie a tutti